Siamo in quello che io definisco il cuore di Napoli, l'arte presepiale, siamo qui all'interno della bottega di Dauria. Dire Dauria significa soltanto dire tradizione, cultura, Napoli, Pulcinella e presepi. Da pochissimo abbiamo fatto una premiazione a questi giovani, piccoli artisti che hanno, sotto la tua direzione, hai lavorato a un progetto con un laboratorio voluto dall'associazione Calliope e tu alla fine hai premiato, hai scelto un presepiale, hai premiato tutti, però uno in particolare che era quello che forse è un po' più vicino a quello che noi siamo cresciuti con quell'immagine della grotta, di Benino sopra che dorme, dei magi che arrivano il giorno dell'Epifania e proprio oggi, sette, si è fatta questa premiazione. Quanta emozione per te che veramente sei un artista conosciutissimo ovunque, avere la possibilità di lavorare con dei piccoli giovani che hanno una serie di problematiche e portarli al raggiungimento del genere. La cosa che fa piacere è comunque che la generazione nuova che si avvicina a quest'arte, che negli anni passati purtroppo si è andata un po' a perdere, ecco appunto ai più giovani, e vedere che comunque si appassionano e vengono presi, catturati da quest'arte, da queste piccole cose, danno spunto appunto a tutta la fantasia e tutto, fa molto piacere. Tu sei arrivato per tradizione e cultura di famiglia a fare un lavoro che oggi veramente insomma è difficile, soltanto chi nasce da famiglia e quindi è tramandato, perché si è un po' perso ecco l'abitudine, nell'uso, questa grande risorsa che invece sono i mestieri che un po' si stanno perdendo. Sì, il fatto è che più che perdere dipende se la persona o il figlio, il nipote ha questa passione, perché tutto comunque gira sempre attorno alla passione, perché comunque se non sei appassionato a questo mondo, fattelo entrare senza un minimo di piacere diventa molto difficile. Però sì, noi siamo di generazioni presepiali e comunque sì, è una cosa che neanche a farla apposta, a me e le mie altre due sorelle abbiamo la stessa passione appunto per questo tipo di arte. Quindi la famiglia d'Aria non ha perso nessuno? No, 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 siamo tutti autodidati, ovvero nessuno ha fatto scuole riguardante questa cosa. Ah, un talento di famiglia, sicuramente. Sì, è passione, è passione, questo è quello che ti posso fare tutto. E proprio per la passione per i tanti turisti che sono stati veramente, Napoli è stato in base ai turisti in questa storia. Sì, Napoli negli ultimi anni si sta rivalutando tanto, stiamo rompendo questi luoghi comuni che per anni hanno abbissato Napoli tra le varie problematiche come tutte le metropoli del mondo portano problematiche Napoli magari ne ha avuto qualcuno in più però col cambio generazionale col fatto che comunque è bello dal panettiere a chi vive di turismo vedere turisti che piace questa città quindi è anche un motivo di vanto quello che sta succedendo e quello che fa piacere è che quando un turista torna a casa Milano, Bologna, dove esso sia racconta belle esperienze passate a Napoli quindi invoglia altre persone a venire giù quindi sfatando questi luoghi comuni ma secondo me oggigiorno i luoghi comuni fanno parte del passato in tutti i sensi anzi ogni tanto sui vari social, su internet vedo delle cose, dei post che vanno a far notare l'efficienza del napoletano o di Napoli in sé per sé che secondo me in questo momento non c'è neanche più bisogno di evidenziare questa cosa perché si evidenzia il funzionamento di una cosa quando non ha funzionato ora ormai sta bene o male funzionando tutto, la strada è pulita appunto i giovani hanno capito che comunque questo cambio generazionale ha aiutato molto che è servito tantissimo quindi fa piacere, fa tanto piacere vengono sempre più turisti durante l'anno, non solo nel periodo natalizio è ancora più bello quindi c'è una partecipazione sempre esatto, ora con l'avvenire di gennaio comunque ci sarà meno ovviamente del periodo natalizio che è appena passato però la cosa bella è vedere che dentro al vicoletto San Gregorio è meno famoso in tutto il mondo, non ci sono solo persone del quartiere che camminano ma il 90% anche se ne sono pochi tra virgolette sono tutti turisti perfetto, allora nel ringraziarti per aver reso possibile il sogno di questi bambini e quindi di essere stato un maestro per dei piccoli, insomma esperti a questo punto visto che hanno avuto un diploma mi ha fatto solamente piacere ecco perché collaborare con i bambini fa sempre piacere e poi sempre di chi metto, ti dico un'ultima cosa, poi ti saluto proprio il turista che viene qua qual è la cosa che porta con più piacere? il San Gennaro, pulcinella, la maschera sembrerà strano, siamo nella strada più famosa al mondo per i presevi ma si vendono tantissimi corni il corno porta sempre bene, deve essere quanto più attorcigliato sì, questa è una scuola di pensiero che si dice che quello più ritorto più attirabusconna è quello più fortunato perché appunto la metafora della vita dice che la curva è uno dei momenti della vita più difficili da affrontare quindi più attorcigliato è più fortuna porta e allora io prendo questo per salutarci porta fortuna a tutti buon anno a tutti qui da un fulcro che è casa Dauria vi salutiamo e vi auguriamo buon anno mi raccomando buon anno